Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Onorevole, abbiamo il decreto sostegni finalmente. È un passo importante anche perché sono state accolte anche tante proposte della Lega. Ad esempio sulle cartelle esattoriali verranno cancellate finalmente 16 milioni di cartelle esattoriali sotto i 5.000 euro. È un primo passo perché su questo ne vogliamo una pace fiscale e una riforma della riscursione perché ci sono tante tasse non dovute e tanti costi inutili. Un altro aspetto importante è quello di andare a dare un aiuto concreto alle attività. 800.000 imprese che stanno subendo le chiusure o le hanno subite nei mesi precedenti saranno indenizzate con una serie di risorse. Inoltre un'altra misura importante è quella di non far pagare, ad esempio questo Cano Nerai ai ristoranti, ai bar, agli alberghi. Sono previste poi misure importanti per la montagna, per il settore turistico, ma anche sul sistema sanitario. Abbiamo risorse importanti finalmente per andare a comprare questi vaccini all'estero, ma anche fare la produzione in Italia dei vaccini. Inoltre sono anche risorse importanti per le regioni, sulla sanità. La cura Draghi era quella che ci si aspettava? Ma intanto non risolve tutti i problemi, come ha detto anche il Presidente Draghi, servirà un altro ulteriore decreto nelle prossime settimane con ulteriori risorse, perché le risorse erano quelle che erano e l'esigenza è proprio quella di dare più risorse possibile alle attività, alle imprese, alle famiglie, alle regioni, agli enti locali. Qua bisogna sostanzialmente spendere di più, ma per far ripartire il Paese e dare ossigeno. Le proposte della Lega sono importanti anche sulla disabilità, sono stati finalmente stanziati delle risorse importanti per la disabilità, perché tante famiglie hanno con questo coronavirus accentuato le problematiche, ad esempio per chi va a scuola, che grazie anche all'intervento della Lega è permesso ai disabili di poter andare a scuola in presenza. Sono misure importanti, non risolvono tutto, però si inizia a lavorare con un metodo diverso, anche un metodo comunicativo e anche dopo aver cambiato il curi, aver cambiato ad esempio la protezione civile e anche i membri del CTS, si spera anche di riuscire a dare anche un po' di tranquillità comunicativa ai cittadini, che in molti casi sono anche esasperati da questi virologi star. Quindi si cerca passo dopo passo di dare il proprio contributo. Grazie a tutti.